Un nuovo record è stato scritto nei giorni scorsi ad Arezzo quello degli accessi alla Basilica di San Francesco che custodisce la leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Ad annunciarlo dalle colonne virtuali di Arezzo Notizia è l'assessore al turismo del comune di Arezzo, Simone Chierici. Era stato proprio lui, anche ai nostri microfoni pochi giorni fa, ad essere molto cauto per un'estate che non ha visto brillare i dati del turismo legato alle presenze degli italiani. Nonostante questo il ponte di Ferragosto ha visto comunque tanti turisti in città. La cartina al tornasole sono proprio gli ingressi nei musei e nei luoghi d'arte, uno su tutti, la Cappella Bacci. Ad ammirare gli affreschi sono state centinaia di persone, dice Chierici, tanto che nei giorni scorsi è stato raggiunto il record di visitatori, 556 accessi. Un numero del genere non lo si era mai registrato, un dato che va ben oltre la media giornaliera dei mesi estivi. A giugno e a luglio in media erano circa 280 le persone che avevano visitato la Cappella. Il mese migliore di questo 2023 era stato aprile, con una media di 313 visite. Ma questo agosto, conclude Chierici, sta andando ancora meglio e speriamo che nelle prossime due settimane i dati si consolidino.